Ciao a tutti e bentornati su Starlet's Tube, io sono Sara e oggi torno con un video che avevo già pubblicato ma l'ho cancellato, quando siete guardando questo video, quello precedente l'avrò cancellato sicuramente perché non mi è piaciuto come era avvenuto insomma, l'ho fatto quando era ancora una pischelletta quindi tre anni fa perché appunto la prima stagione di cui mi accingo a parlare è uscita tre anni fa se non sbaglio, dopo c'è stata la pandemia e tutto quant'altro che hanno rallentato le riprese della seconda stagione che arriverà appunto tra una settimana, ovvero il 17 di febbraio e quindi mi sono detta ma sì, cogliamo la palla al bazzo, facciamoci un rewatch così veloce veloce alla cittina e rifacciamo il video insomma adesso che sono diciamo leggermente più bravina, diciamo pure così oggi vi parlo di Carnival Row, la prima stagione, serie che potete trovare su Prime Video con protagonisti Orlando Bloom, scusatemi, e Cara della Vigna e devo ammettere questa serie mi ha colpito non soltanto per la trama che era abbastanza incasinata e che ti portava a fare delle congetture mica male, ma anche e soprattutto per l'ambientazione steampunk il fatto che ci fossero creature magiche come fate, fauni e chi più ne ha più ne metta mischiati agli umani e soprattutto quella buona dose di zompate che sempre purtroppo diciamo, purtroppo in senso diciamo goliardico tengono lo spettatore incollato allo schermo, c'è poco da fare, Game of Thrones ce l'ha insegnato la serie è ambientata in questa Londra un po' steampunk, un po' appunto vittoriana e tutto il resto insomma le atmosfere sono veramente veramente molto belle, io vi invito appunto a cercare qualche immagine comunque a guardare la serie visto che adesso uscirà la seconda e ultima stagione e meno male perché diciamo che questa serie già di per sé non si prestava a più stagioni cioè nel senso una seconda stagione va bene per concludere il tutto ma farne ancora no, no secondo me è stata proprio studiata per essere di due stagioni e va benissimo i protagonisti diciamo di questa storia, di questa serie sono Philo che è un poliziotto umano diciamo così che però ha anche sangue fatato nelle vene, interpretato appunto da Orlando Bloom e Vignette che è una fata e i due si sono conosciuti durante la guerra in cui hanno iniziato questa relazione molto appassionante, è nato proprio questo amore molto molto forte ma che è finita quando lui si è fatto credere morto perché era convinto essendo un mezzo sangue di non meritarla ecco io voglio partire subito dal personaggio di Philo allora io capisco il tormento interiore per il fatto che sei per metà Critch, infatti loro sono chiamati Critch le creature così, le fate, i fauni, chi più ne ha più ne metta però diciamo che questa ragazza, questa fata, questa bellissima fata perché cara delle vigna dite tutto quello che volete a livello recitativo ma è una bellissima ragazza ti ha dimostrato di accettarti per quello che sei, ha trovato in te una ragione di vita e tu la molli in quel modo facendoti oltretutto credere morto perché sei convinto di non essere abbastanza cioè un conte se lei, io non ho ben capito, un conte se lei avesse dato qualche sentore guarda mi fai schifo, secondo me io e te non abbiamo nessuna possibilità invece no, Vignetta credeva fermamente in loro due, nel loro legame, nel fatto che potessero avere un futuro lei desiderava ardentemente avere un futuro con Filo, non gliene fregava un cazzo che lui fosse per metà umano assolutamente niente e poi lui decide di mollarla, passano sette anni lei è rimasta lì in mezzo alla guerra, poverina a cercare di mettere in salvo più dei suoi simili possibili rischiando la vita in continuazione e lui invece è diventato un ispettore di polizia e si tromba pure la proprietaria della locanna in cui alloggia poi convinto di voler scegliere il mondo umano, le rivela la sua vera natura e cosa fa? sta stronza, lo va pure a denunciare scusami Filo ma ti meriti 99 minuti di applausi senza neanche mettere il frame perché non ti meriti il ragioniere non ti meriti di applausi del ragioniere, mi dispiace ma in questo caso a Filo avrei dato tante quelle sberle c'è da dire che comunque è un personaggio estremamente positivo perché lui non è come tutti gli altri poliziotti che qua sono in mezzo i critch, se ne fregano altamente, anzi li trattano con disgusto e diffidenza infatti la cosa bella di questa serie è che tratta argomenti come appunto il razzismo la discriminazione e anche l'accettazione perché Filo deve arrivare ad accettarsi e ad accettare la sua vera natura soprattutto quando quella troia della locandiera lo denuncia perché rimane disgustata a differenza di Vignetta che invece quando c'è se voi andate a vedere la serie guardatevi la scena in cui lui rivela la sua vera natura Vignetta e quando lo rivela a quella stronza della signora Fife che è così che si chiama guardate le medie della confronto e ditemi se Filo non è un rincoglionito comunque sia praticamente vedi i suoi colleghi con cui ha lavorato per anni arrivare addirittura a discriminarlo, a insultarlo, a picchiarlo oltretutto solo perché è per metà Critch e quindi c'è anche questo argomento Vignetta lei appunto arriva poi nella Row che è il quartiere in cui diciamo vivono la maggior parte di queste creature si rivede con una sua vecchia amica che era una poetessa che adesso fa la prostituta praticamente in questo bordello di fate e cerca appunto, lei cerca di andare avanti, di crearsi una nuova vita senza Filo perché ha capito che lui ormai è perduto il suo posto non è con lei quindi cerca di rifarsi una vita entra in questa banda che si chiama il Corvo Nero se non sbaglio, i miei ricordi sono abbastanza il rewatch lo faccio veloce voglio darvi appunto un'idea in modo che magari questa settimana che arriva la seconda stagione invogliarvi a recuperarla perché io vi dico che è veramente bella entra appunto in questa piccola banda di quartiere si occupa della lotteria insomma cerca di andare avanti però nel mentre c'è questa famiglia diciamo questo cancelliere che è interpretato tutto da Jared Harris c'è questa serie e poi c'è un cast neanche niente male che in Parlamento sta cercando insomma il Parlamento vorrebbe sbarazzarsi da quello che si capisce delle creature magiche però non è che possono farlo completamente almeno finché non arrivano il figlio questo cancelliere è il figlio che ha con la moglie che è oltretutto la moglie interpretata da Idira Vermira che era l'Area Sand di Game of Thrones e poi c'è questa creatura questa creatura orribile una roba bestiale una cosa disgustosa che sta uccidendo diverse persone tra cui appunto poi uccide la madre anche di Filo che lui non sapeva di essere chi era sua madre lui sapeva soltanto di essere per metà Critch ma non sapeva chi era sua madre e quando appunto trovano il corpo di questa fata lui diciamo attraverso facendo un po' di indagini quant'altro scopre che era sua madre quindi poverino dispiace giustamente ci resta anche abbastanza male perché aveva lasciato in orfanotrofio e già quando questa creatura che sta uccidendo non solo i Critch ma anche delle persone umane e tutto è un piano di questa di questa donna della Idira per... non è che ho capito neanche io tanto bene perché c'è lì in mezzo il futuro del figlio il futuro del figlio che è una benemerita testa di minchia che va in giro a trombare e fare cazzate praticamente non è proprio il massimo della svegliezza poi arriva questa donna questa ragazza che è figlia del rivale diciamo del Jared Harris che quando muore il padre ucciso proprio dalla creatura prende il suo posto e diciamo che lei potrebbe essere un po' un emblema di come il femminismo stesse cominciando perché una donna in Parlamento insomma anche per l'epoca era abbastanza strano però è subdola è subdola è stronza e spero che esploda male nella merda i due infatti interacciono una relazione ma poi scoprono di essere fratellastri perché la madre del testa di minchia del figlio del cancelliere ha avuto una relazione col padre della stronzetta e poi anche Jared Harris in realtà si scopre che è il padre di Filo che ha avuto una relazione con la fatta che lui aveva scoperto verso la sua madre dove è beautiful beautiful proprio levati che non puoi competere non puoi competere con questa cosa non il crocio di DNA di misquigente che si è accoppiata a destra banca ha fatto un casino assurdo e nel mentre appunto Filo e Vignette ogni tanto si incrociano però c'è sempre comunque giustamente del rancore della freddezza finché lui non viene messo in cella e anche lei era stata messa appunto in prigione lì vicino a lui perché aveva fatto un po' di casino in un museo quando ha visto giustamente i tesori della sua gente messi in delle teche così esposti come se fossero trofei diciamo che c'è rimasta abbastanza male ha fatto un po' di casino era stata messa dentro quando i due si ritrovano in cella chiariscono un po' le loro divergenze e capiscono di amarsi ancora infatti scusatemi mi sono interrotta perché pensavo di aver sentito il cedofono invece non è vero sono un cretino che ci ha deciso che suonare il clacson era divertente scusatemi non so come è venuto in montaggio spero bene comunque sia i due poi cercano di liberarsi insomma Fai lo fa un accordo col padre ok io ti aiuto e tutto quanto a fare quello che devi però tu devi anche lasciare liberi me e Vignette devi permetterci di andare via anzi lui vuole proprio che il figlio sparisca che Fai lo sparisca per proteggerlo perché sa che la moglie quella quella grandissima zoccola cercherebbe di farlo fuori però nel mentre appunto Indira poi scopre di quella residenza di Fai lo e rapisce Vignette per attirarlo e farlo uccidere dalla creatura ma alla fine i due hanno la meglio uccidendo la cagna maledetta e anche la creatura e mentre stanno per scappare però arriva il decreto che nessun Critch può lasciare la città perché la moglie la stronza ha ucciso il cancelliere Jared Harris strappandogli il fegato e quindi ha fatto credere che fosse stato un Critch a ucciderlo perché gli serviva per il rituale e quindi di conseguenza la serie si conclude con la Ro praticamente isolata e tutti i Critch che devono entrarci e tutto il resto e poi c'è anche una storia parallela di questi due personaggi che sono un fauno e una donna umana interpretata tutto da Tamsin Madsen che era la Catherine Howard di Tudors e ha fatto anche una parte in Orgoglio e Pregiudizio nel ruolo di Georgina o Georgina no Georgina la sorella di Darcy per intenderci nel film con Kila Knight di Orgoglio e Pregiudizio che si sono innamorati loro proprio sono anche loro diciamo l'emblema di come un Critch e una persona umana possono anche stare insieme e innamorarsi non lo sape del fratello di lei incazzata come una iena non approvi assolutamente cerca anche di ucciderli e loro stavano scappando nel mentre quindi non so effettivamente se poi li avranno presi perché adesso appunto nella seconda stagione vedremo come la situazione perché il Parlamento appunto sta decretando quasi la fine di tutte le creature magiche che sono adesso rinchiuse nella row anche Filo decide finalmente di accettare la sua natura e sceglie Vignette quindi quando il poliziotto che sta diciamo eliminitando il cordone per non far passare a nessuno per non far uscire soprattutto nessuno gli dice vai a casa qui è solo per i critch lui dice sono anche io un critch perché anche io sono per metà fatta e quindi decide di entrare anche lui nella row e appunto stare con Vignette e cercare adesso dovranno i due penso trovare una soluzione per tutto questo marasma io ho intravisto un po' il trailer della seconda stagione e penso che ci sarà un po' di casino ci sarà un po' di casino perché da una parte vedremo Vignette combattere per la libertà della sua gente facendo anche un po' di burdello e dall'altra vedremo appunto Filo che torna nei panni appunto dell'ispettore nonostante lui si sia diciamo autoesiliato nella row quindi voglio capire quindi vedrò sicuramente con piacere questa seconda e ultima stagione sperando che non abbiano fatto le cose di fretta dato che hanno avuto tre anni complici anche alla pandemia e che non mi abbiano fatto un finale affrettato io vi dico che questa serie è veramente molto bella molto interessante visibilmente devo dire fatta bene le interpretazioni sono convincete Orlando Bloom è bravo lo sappiamo tutti Will Turner Legolas ha fatto anche altre cose comunque ha dimostrato di essere un bravo attore devo dire che anche qui non si è risparmiato quindi la storia è veramente poi diciamo coinvolgente anche se un po' incasinata perché secondo me non avevano in mente di fare una seconda stagione quando hanno cominciato a scriverla avevano un po' le idee confuse e quindi di conseguenza io vi dico che se cercate una storia con le atmosfere steampunk sempre belle una bella storia d'amore e soprattutto una trama avvincente che ti tiene incollata e che ti fa fare un sacco di supposizioni allora Carnival Raw fa assolutamente per voi bene anche questo video si conclude qui io spero che vi sia piaciuto come sempre vi ricordo che se vi piace la maglietta che indosso andate in descrizione dove potete trovare il sito di Pampling dove ci sono ancora un po' di offerte ma comunque le fanno continuamente le novità sono a 10 euro per le prime 24 ore se fate un ordine sopra i 40 euro non pagate le spese di spedizione ma soprattutto se aggiungete un paio di calze al vostro ordine e usate il mio codice sconto star 86 le calze non le pagate quindi se siete dei nerd senza speranza come me mi raccomando andate sul sito di Pampling e prendete tanta roba bella e bellissima perché i prezzi comunque sono abbordabilissimi vi ricordo che se questo video vi è piaciuto per farmelo sapere dovete andare qua sotto dove c'è il pollice in su e mettermi un bel like soprattutto ricordatevi che se volete sostenermi dovete iscrivervi al canale seguirmi su Instagram su TikTok seguite la pagina Facebook che è appena riaperto tutti i link in descrizione ma soprattutto ricordatevi di cliccare sulla campanella per attivare le notifiche e non perdervi nessun nuovo video ma soprattutto ragazzi ricordatevi di commentare fatemi sapere se voi questa prima stagione l'avete vista e se state aspettando come me la seconda se vi è piaciuto cosa vi è piaciuto se invece l'avete vista e non vi è piaciuto magari vi darete un'altra possibilità magari anche grazie al mio video oppure è complice il fatto che sta per uscire la seconda e ultima stagione quindi mi raccomando fatevi sentire nei commenti che non solo mi fanno un sacco piacere ma soprattutto i commenti aiutano l'algoritmo a spingere il video quindi a farlo vedere a più persone ad aumentare le visualizzazioni quindi mi raccomando fatevi sentire e fatemi sapere la vostra opinione io vi mando un bacione enorme e noi ci rivediamo al prossimo video ciao a tutti